Ciao, sono Mario. E' questo il primo messaggio che è arrivato su WhatsApp ad un commerciante di Castiglion Fiorentino. La foto utilizzata e le generalità erano proprio quelle del sindaco della cittadina della Valdichiana, quindi nulla di sospetto. Poi però la richiesta è insolita ricaricare il proprio conto gioco online per poter scommettere. Insomma, un vero e proprio tentativo di furto. Fortunatamente in questo caso il commerciante ha compreso il tentativo di frode e non ha dato credito al truffatore, chiamando direttamente il sindaco. Prima però che bloccasse il numero, il truffatore aveva già cambiato la foto del profilo, quella di un sindaco di un altro paese pronto a tentare un altro raggiro. E' così lo stesso primo cittadino Mario Agnelli tramite le pagine social ad invitare a porre sempre la massima attenzione. I tentativi di truffa, scrive, sono sempre dietro l'angolo perché ci sono persone che se le inventano di tutti i colori pur di fregare il prossimo.